Quasi tutti i possessori, non dico tutti, ma dico quasi, o meglio dire una buona parte dei possessori di monete virtuali sottovalutano il fenomeno dichiarativo. L'Italia è stato un paese pioniere nel recepimento della quarta e della quinta direttiva antiriciclaggio. Nella definizione di valuta virtuale. E poi ha inserito delle norme atte a prendere i risultati proprio ottenuti in sede di antiriciclaggio per poterli utilizzare ai fini della determinazione del reddito. Tanti investitori, molti investitori, stanno sottovalutando questo fenomeno, credendo a fantasie sul fatto che non esistano leggi, credendo a fantasie sul fatto che sia una situazione decentralizzata, credendo a fantasie di chi in realtà vuole solamente ottenere visualizzazioni sui propri profili social. In realtà la situazione è delineata, vi è una prassi amministrativa che si sta stratificando nel nostro tessuto giuridico, e vi è consapevolezza da parte della dottrina e della giurisprudenza di operare in tal senso e quindi attivarsi ai fini del monetiraggio fiscale. L'amministrazione finanziaria, nello specifico la Guardia di Finanza, sta iniziando le indagini quando si accendono determinati alert di rischio. Quindi quando, ad esempio, ricevono informazioni sul possesso di monete virtuali da parte dei contribuenti e di notevole importanza è l'istituito registro degli operatori, istituito proprio nel 2022, che obbliga gli operatori in cripto che operano in Italia a segnalare nome, cognome, indirizzo e ammontare di quanto appunto transato dal contribuente. Ok, quindi incrociamo i dati fra quelli che vengono segnalati e le dichiarazioni mancanti. Ecco che si accendono quelli alert che portano l'amministrazione finanziaria a contattarti per avere maggiori informazioni. Avere dei redditi di qualunque natura, ovviamente stiamo parlando nell'ambito delle attività leciti, comporta il pagamento delle imposte. Quali imposte è la prassi amministrativa che ci indica come e in quale misura andare ad operare ai fini del corretto assolvimento degli obblighi dichiarativo fiscali.